Io frequento l'indirizzo Architettura Ambiente e si tratta di progettazione di edifici, di strutture, di paesaggi, anche di urbanistica e molto vario e in questo momento stiamo facendo la ristrutturazione e riqualificazione di una antica fornace. La prima parte di un progetto si inizia a lavorare graficamente, quindi utilizzando fogli spolvero e fogli per le tavole tecniche e dopodiché si passa alla progettazione al CAD, quindi utilizzando software come Archicad o AutoCAD. No, no, comunque i professori grazie anche all'attività di laboratorio del biennio riescono a farti capire per cosa si è più portati.